Grazie 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 1, 2, 3 Ed eccola l'orgoglio e la fierezza di Porta Portella La catapulta, infernale macchina da guerra utilizzata per sfondare, distruggere le nuove nemiche per assaltare, per abbattere, per conquistare Un avvolimento per portare la catapulta L'agrazione per i-di-di-di-di-di-di-di-di 2, 2, 1, 4, 1, 2, 3 E' un applauso e un saluto che vi faccio il capitolo anche alla compagnia dei cavalieri e un saluto che vi faccio il capitolo anche alla compagnia. Saluti al maestro d'Arme e la catapulta in piazza!